E' chiaro che se il PD Lombardo avesse scelto di crederci la partita sarebbe stata probabilmente più facile perché uno scontro secco Fontana con la Lega e Fratelli d'Italia e la Moratti con gli altri diventava una partita molto più interessante quanto meno dal punto di vista numerico. Bon è andata, io penso che la Lega e la Moratti potrà fare un'ottima campagna elettorale, potrà prendere un po' al mondo ex centrodestra ma anche un pochino al mondo riformista, vediamo. Visto che Conti ha detto al PD che se sono pronti a chiedere scusa per gli errori del passato lui li accoglie, se al PD piace così contenti loro, contenti tutti, sono forme diciamo di masochismo anche molto interessanti. Grazie. 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 Grazie.